Salve! Siamo collegati in diretta dal campeggio di Wawanakwa, che si trova nei dintorni di Moscoca, nell'Ontario. Qui è il vostro Chris McLean, al timone del reality show più caldo del palinsesto televisivo del momento! Questa è la dinamica. 22 campeggiatori hanno accettato di passare 8 settimane in questo vecchio e scadente campo estivo. Si affronteranno in una serie di pesanti sfide per poi essere giudicati dai loro stessi compagni d'avventura. Ogni tre giorni una delle due squadre vincerà una ricompensa, mentre un membro della squadra avversaria camminerà sul molo della vergogna. Salirà a bordo della barca del perdente e lascerà a tutto reality l'isola per sempre! Il loro destino si deciderà qui, durante la vincente cerimonia del fuoco, dove ogni settimana tutti i campeggiatori, tranne uno, mangeranno un marshmallow. Alla fine resterà un solo concorrente che riceverà in premio una notorietà da rotocalco e una piccola fortuna che, diciamocelo, svanirà in una settimana. Per sopravvivere dovranno combattere contro mosche nere, orsi gritli, disgustoso cibo da campeggio... E... tra di loro! Ogni momento verrà catturato da una delle centinaia di telecamere situate in tutto il campeggio. Chi crollerà sotto il peso della pressione? Potrete scoprirlo qui, adesso, a tutto reality l'isola! Mamma e papà sto bene ormai, quindi non mi annoio mai. La mia strada era piena a metà, ma ora quel momento arriverà. I wanna be famous! C'è la vittoria sulla mia via Fate i bagagli perché è già mia Tutto arriverà, niente svanirà Ed è già storia I wanna be famous Bentornati a Tutto Reality l'isola Molto bene È ora di conoscere i primi undici campeggiatori Loro sono convinti che alloggeranno in un resort a 5 stelle Quindi se li vedrete un po' giù di tono, probabilmente è per questo Ed, come va? È pazzesco conoscerti! Wow, sei molto, ma molto più basso dal vivo Ti ringrazio DJ! Bella, Chris McLean! Come ti butta? Sei sicuro che è questo il posto? Dov'è l'idromassaggio? Bella, zio! Sì, è questo! Campeggio Wawanacqua! Sembrava tutto diverso sul modulo di partecipazione Ciao, Gwen! Intendi dire che staremo qui? No, voi starete qui! Io sto in un camper con aria condizionata da quella parte Non ho firmato per questa cosa Invece lo hai fatto! Sai qual è la cosa bella degli avvocati? Fanno un sacco di fotocopie Io qui non ci resto Bene Spero che tu sappia nuotare Perché la tua barca è appena partita E adesso? Chris McLean! Come va, amico? Che onore conoscerti, amico Grande Jeff! Benvenuto sull'isola, amico Grazie, amico Se dicono amico un'altra volta Giuro che vomito Ragazzi, questa è Lindsay Niente male, eh? Ciao! Ok, mi sembra di averti già visto Sono Chris McLean Conduco il programma Oh, ecco dove ti avevo visto Eh, sì Eter! Ciao! A quanto pare saremo i tuoi nuovi amici Per le prossime otto settimane Duncan, ciao! Detesto le sorprese Sì, il tuo agente di sorveglianza Mi ha avvisato, amico Mi ha anche detto di fargli un fischio alla bisogna Così ti rispediscono al riformatorio Sì, va bene Ci si vede dopo il bivacco, bellezza Te lo scordi, lombrico? Telefono è miei Non potete costringermi a restare Signore e signori Aile! Oh, le mie scarpe nuove! Che botto micidiale, amico! Benvenuto al campeggio, Harold Ma che diavolo guarda? Vuoi dire che il programma si fa in uno schifoso campo estivo E non in un megastudio e roba così? Indovinato? Sì! Ciò significa che è molto più nelle mie corde Il concorrente numero nove è Trent Ciao, piacere di conoscerti, amico Ti ho visto in quello show sui pattini Ottimo lavoro Ehi, grazie, amico Lo sapevo che spaccava Sì, io l'ho visto Uno dei concorrenti ha fatto dare una testata alla partner E così hanno avuto l'immunità Che fortuna Spero di dare una testata pure io Anch'io Allora, è tutto qui Però, andiamo bene Ciao, come va? Benissimo La nostra bella surfista Bridget è dei nostri Bella tavola Non siamo mica a Malibu Credevo di stare su una spiaggia E infatti Grande Benissimo E ora... Ehi, cavolo Che male Ciao, ragazzi Ciao Io sono Jeff Come va? Ehi, attenta alla tavola, cavolo Ciao Sono Beth Ok, abbiamo conosciuto la surfista Ora possiamo andare avanti? Che ti sei persa il doppio cappuccino macchiato stamattina? Al diavolo Il nostro... Prossimo campeggiatore è... No! Ti hanno dato il memo delle allergie che minacciano la mia vita Qualcuno me l'avrà dato Bene È qui che dobbiamo stare? No, è casa di tua madre E ora facciamo una festa Belli quei piercing originali Te li fai da solo? Se ne vuoi uno, per caso No, grazie Mi ridai il labbro, per favore Grazie Ciao, ragazzi Le shane è qui con voi Ciao, amore Come va? Come va? Come butta? Andate pure via Vi risparmio la fatica Perché tanto vinco io Come stai, fratello? Dammi un bacetto, tesoro Non ho mai visto una ragazza come te nella vita reale Che cosa hai detto? Sei proprio grossa E piassosa Ti dispiace ripetere? No, non ci credo Non hai capito bene Ti faccio vedere io quanto sono grossa Oh sì, ne vuoi un po'? Vienitelo a prendere Basta, campeggiatori Adesso calmatevi Signore, sedi, Katie Benvenute nella vostra casa per otto settimane Oh mio Dio Sedi, guarda È un campo estivo Sì Io ho sempre sognato il campo estivo Ezequiel Come va, amico? Credo di aver visto un uccello Ok Senti, ragazzo Lo so che non esci molto Hai sempre studiato da privatista Sei cresciuto con la gente della prateria Dai retta a me Parla poco E non farti sbattere fuori troppo presto Ok Sì, signore Questo è proprio Wow Cody Grande Cody Master Cody Forte È un mito essere qui, Chris Vedo che le signore sono già arrivate Che fate? Daci, poppante Eva Eva Bene Ce l'hai fatta Ai Ma che c'è là dentro? Manubri? Sì È tutta tua, amico Chris, ma non ci credo È così assurdo Owen, benvenuto È assurdo essere qui, amico Sì Cavolo È veramente troppo Assurdo? Sì Assurdo Non mi dire Tu sei in squadra con me Oddio Spero proprio di no Pensi di aver finito? Scusa, amico È che sto in palla Bene Ed ecco che arriva Cosme Grazie Ciao Dovete essere gli altri concorrenti È un vero piacere conoscervi Come ti butta? Io sono Owen Piacere mio Wow Lui è Justin Benvenuto a Tutto Reality l'Isola Grazie, Chris È fantastico Giusto perché tu lo sappia Ti abbiamo scelto solo per il tuo aspetto fisico Me ne farò una ragione Che bei pantaloni Grazie, amico Mi piacciono perché sono tutti consumati Gli hai comprati così? Eh, no È che ce li ho da un bel po' Oh Forti Che stupido Ragazzi, ecco a voi Easy Ciao, Chris Ciao Ciao Oh Accipicchia che botta Accidenti Si è fatto male sul serio È stato Bellissimo Peccato che ha fatto dolmento Ma è un campo estivo Troppo fico Qua c'è la cartopesta A che ora si bronza? Questa è una bella domanda Le prime cose per prime Dobbiamo fare la foto di gruppo Per il promo Tutti da questo lato del molo Ok Uno Due Tre Ops Ok Avevo dimenticato il tappo Bene Non vi muovete Uno Due Oh Accidenti La memoria è piena Un attimo Eh dai però Mi si paralizza la faccia Fatto Ok Dite tutti Wawanacqua Wawanacqua Ok ragazzi Asciugatevi e raggiungetemi al bivacco fra dieci minuti Questo è il campeggio Wawanacqua La vostra casa per le prossime otto settimane I campeggiatori seduti accanto a voi saranno vostri compagni di stanza I vostri avversari E forse addirittura i vostri amici Mi spiego? Quindi ascoltatemi bene Il campeggiatore che resterà più a lungo sull'isola Senza farsi eliminare Vincerà ben centomila dollari Scusa Come ci sistemiamo per dormire? Perché io vorrei tanto avere una cucetta sotto la sua Non ci sono casette miste? No Le ragazze si prendono una parte di casette E i ragazzi la parte restante Scusami Kyle Posso avere una casetta con vista lago Visto che sono la più carina? È vero lo sei Ma qui non funziona così E comunque Mi chiamo Chris Se non sto in casetta con Sadie Io, io muoio E a me verrà un attacco di orticaria Lo giuro No, no e no Non può essere vero Oh, e dai ragazzi Ci divertiremo È come un mega pigiama party Almeno non devi dormire accanto a lui Ti pare? Le regole del gioco Sarete divisi in due squadre Quando chiamerò il vostro nome Fate un passo avanti Gwen Trent Heather Cody Lindsay Beth Katie Owen Leshanna Justin E... Noah Da questo momento in poi Fate ufficialmente parte delle Marmotte Urlanti Yeah! Sì! Sono una marmotta Wow! Aspetta! E perché Sadie non c'è? Il resto del gruppo di qua Jeff Bridget DJ D.J. Tyler Sedi Easy Courtney Ezekiel Duncan Eva E Harold Vai, 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 vai Ma Katie è una marmotta Anch'io devo essere una marmotta Ti chiami Sadie? Coraggio, andrà tutto bene È veramente ingiusto Mi manchi, Katie Mi manchi anche tu Ragazzi, voi siete ufficialmente Le carpe assassine È pazzesco È troppo Esagerato Allora, campeggiatori Sarete sempre sotto l'occhio delle telecamere In tutti gli spazi in comune Nel corso di questa gara Avrete l'opportunità di esprimere Le vostre emozioni più profonde Nel confessionale in qualunque momento Per far sapere al pubblico a casa Quello che pensate veramente O per levarvi qualche sassolino dalla scarpa Ehm, che dire Finora è uno schifo Non capisco Dov'è il cameraman? Ciao ragazzi Aprite le orecchie Ho una cosa molto importante da dire a tutti voi Allora, ci sono domande? Ottimo Andiamo a vedere le casette ora Marmotte, voi dormite nella parte est Le carpe a ovest Letti a castello Non fa un po' troppo campo estivo? L'idea è questa, genio Taci, d'archettona Tu sei troppo avanti Guarda che lo penso Non dovresti stare nella zona maschi? Dove sono le prese? Devo attaccare la piastra per i capelli Ce n'è sicuramente qualcuna nei bagni in comune Da quella parte, cara? Bagni in comunione? Ma io non sono cattolica Non in comunione In comune Si fa tutti la doccia insieme Idiota Meno male che siamo in una casetta per soli uomini Capite che intendo? Volevo dire no Ma che avete capito? A me... A me piacciono le donne Ma non mi va di dormirci insieme Nel senso Scusa, Chris C'è una sorta di capogruppo in questa struttura? Avete tutti compiuto 16 anni L'età richiesta ai tirocinanti animatori nei campi estivi Quindi, a parte me, non c'è nessuna sorveglianza Vi do mezz'ora per disfare i bagagli Appuntamento nel padiglione centrale A partire da ora Bello! Senti come strilla la mozzarella Che cos'è? Schiacciatelo! Schiacciatelo! Quello era il mio letto Così si ammazzano gli scarafaggi Pazzesco! Se ti capita di vederne un altro Chiamami, ok? Perché, sai com'è Lo faccio secco Alle donne piacciono i gaggi Tunatevi le orecchie! Vi servo tre volte al giorno E qui si mangia tre volte al giorno! Passoio alla mano Prendete il vinto E posate le chiappe sui banchetti! Mi scusi, assumeremo cibi appartenenti a tutti i gruppi alimentari? Sì, io ho gravi crisi ipoplicemiche Se non assumo abbastanza il succo Altro che crisi ti viene se non chiudi quella boccaccia! Hai infartato! Che cosa hai detto? Vieni più vicino, grossone! Credo di non aver sentito bene Eh, in realtà non ho detto niente di importante Ne sono sicuro E tu! Scrocchia ZP Dammi quel piatto Ciao, come va? Ah, allora le cose stanno così, eh? Mamma! Mi scusi? Il mio nutrizionista dice che non dovrei assumere zucchero bianco, farina bianca e latticini Non credo che sia questo il problema Bene! Ok, odio essere prevedibile e lamentarmi dal primo giorno Ma il mio panino si è appena mosso Justo! Va bene così Benvenuti nel padiglione centrale Ciao, fratello! Possiamo ordinare la pizza? Wow! Bel colpo, chef! La sbobba marrone è ottima! Vero, ragazzi? La vostra prima sfida inizia... Tra un'ora Secondo te che cosa ci faranno fare? E' la nostra prima sfida E che sarà mai? Oh mer... Nella prossima puntata di A Tutto Reality, l'isola La vostra prima missione è buttarvi nel lago da una scogliera alta 300 metri Quando lo guardo penso fra me e me, no, è impossibile! Uh, non ce la farò mai! Veramente ho pensato, se si tuffa da qui... Ci resta secco Sento che morirò Morirò Accidentaccio E' la cosa che si tuffa da qui... Grazie per la visione!